Se volete allenarvi e diventare abili con un bicchiere del caffè, vi insegno due esercizi. Intanto ci vuole un bicchiere del caffè. Voi direte, si ma magari ci ha messo dentro qualcos'altro. No, come si vede, è sporco di caffè. Si mette il bicchiere sulla mano e lo si prende al volo. Secondo esercizio, si prende un foglio, lo si piega in questo modo qua. Ci si mette sopra il bicchiere di caffè e lo si prende al volo. E diventerete anche voi dei mostri di bravura, proprio come me.